Nuovo aggiornamento, patch 24.30 Sono uscito un sacco di novità, skin La mappa è anche cambiata Qua non mi fa perdere le missioni, ma anche la mappa Ci sono dei piccoli cambiamenti per quanto riguarda il gameplay Ma adesso reagiamo al pass battaglia insieme Allora, armata dei cloni Intanto se non siete iscritti iscrivetevi, lasciate un bel mi piace Allora, vabbè, sticker Poi, livelli, che non so, cioè, XP, non so quanto sia Vabbè, comunque Ah, il gettone scala livelli Ah, quindi è un livello, è un livello questo, ok Poi, la caduta della repubblica Ok, bella Bella schermata Richiede 4.000 punti di quelle missioni lì Eh, mamma mia, sarà difficile Backpack Un po' così Poi abbiamo uno spray Ok, altro livello Una mimetica, carina, ci sta Poi Piccolo sguscio Un dentaplano, no, vabbè Beh, è il primo dentaplano Mi sa che è il primo dentaplano dove sei seduto Ma che figata Fighissimo Altro spray Altro livello E poi soldato clone Questa skin sarà gratuita Sto avendo 11.000 Dei cosetti lì Allora Io voglio capire perché non mi fa per le missioni Non lo... eccole Aspetta Ok Bisogna fare queste missioni qui Vedete che vi dà i punti Distanzi percorso in un veicolo Soprire le fasi della tempesta Esamina un forse della repubblica Atterra durante... Trova la forza Non so che cosa sia Forse è una modalità Boh Ok E quindi la prima parte che abbiamo appena visto Quindi il pass battaglia Quello che vedete in blu È gratis Quindi questo qui è tutto gratis Invece la parte sotto Sotto che adesso andiamo a vedere È a pagamento Adesso vi dico anche quanto costa Altro backpack Carino Altro livello Spray Altro... Cioè è uno stile della skin di prima No, non mi piace Poi Altro cosetto qui Altro livello Mimetica Altro stile Picco... Mamma mia Questo è il più grosso della skin Lascia stare Altro livello E poi la skin finale Di questo mini pass battaglia Ora posso vederla in un modo migliore Traccia Tracciata delle ricompese No No Vabbè È carina È carina E questo pass battaglia Di quello sotto Costa mille V-Buck Vedete? Costa mille V-Buck Allora Ora vi dico un po' Un attimo la mia Perché Tra l'altro non è finita Perché Guarda un attimo qui Si potrà sbloccare Avendo finito tutto Se non sbaglio Anche questo tentaplano Ma non solo Finendo le missioni Facendone 12 Avremo anche quel coso lì Che è un Quel triangolo Non so che cosa sia Ma avremo anche quella roba lì Quindi Il pass battaglia Quello che vedete in blu È gratis Tutto gratis Può averlo chiunque Quello Colorato in rosso Invece È da Shoppare Che costa Mille V-Buck Secondo me Ci può anche stare Se non siete persone Che shoppano molto No Perché Ovviamente Sono cose Diciamo gratis Anche se questa skin qui Se usciva nello shop Costava mille e cinque Quindi Allora vi dico Che ci sta lo stesso Quindi Io Non perdo tempo Ragazzi Acquistiamo Ma mi da tutto Ho la skin Perché ho la skin Non ho capito Questa cosa Ah Se shoppate Fighissimo Ma aspetta Ma Bellissimo Allora Vi faccio capire Allora Ma quindi scusami Ma questa qua Come si chiama Soldato clone No Questo è uno stile Ok Se vi shoppate Il pass battaglia Che costa Mille V-Buck Avrete questa skin In regalo Ed è una skin Proprio È proprio una skin A sé A parte Invece Nel pass battaglia Quello gratis Avrete lui Più tutte le ricompense In blu Nel pass battaglia Shoppato Avrete poi Due stili O forse no Mi sa che questa qui Sono skin separate Mi sa Non so se sono stili O skin separate Comunque Avrete questi due Stili o skin E poi avrete lui Se shoppate il pass Ovviamente È lui che ve lo dà subito Perfetto Allora vi dico Che c'è Nel senso Quante skin sono 3 4 5 Dovrebbero essere 5 skin Se questi qui Sono skin Se questa la conta come skin Sono 5 skin E vi dico che Secondo me ci sta anche Allora le missioni Sono un po' Mmm Però mi piace Sta roba che ha fatto Forrent Che quando c'è una collab O comunque un qualcosa Mettono un mini pass battaglia A metà season Mettono un mini pass battaglia Ci sta per dare anche Vita un po' Alla season Come hanno fatto La scorsa season Con i ricercati O erano qua Con starwash Quanto dura? 20 giorni? Tra 20 giorni Che giorno è? Oggi il 2 Sarà il 22? No In realtà no Perché è il 23 ore Quindi sarà il 23 Il prossimo aggiornamento Sarà il 23 Sarà l'ultimo Credo Sì perché poi La season finisce il 9 Ok quindi Questo è il pass battaglia Secondo me ci sta Shopparlo Per mille più bacca Alla fine Secondo me ci sta La parte super gratis Quella sotto a pagamento Quindi ci sta Abbiamo finito Di vedere il pass battaglia Fatemi sapere Se vi piace E se non siete scritti Iscrivetevi Mi spieghi come fa Il doppio salto? Devi cliccare Due volte Il tasto per saltare Mi hai trollato Non so come è possibile Allora Tu devi fare così E così Prima salto E poi salto Ancora È possibile che non va C'è qualcosa che non va Allora le cose sono due O c'è il gioco buggato O c'è il gioco Fra io clicco due volte x Però eh Tu mi stai trollando Allora devi saltare Devi premere una volta Con il tasto per saltare E poi Appena salto Devi cliccare un'altra volta Guarda Così E così No ma scusami eh Aspè Ma fra io clicco due volte x Ma non va Allora c'è il gioco buggato Scusami Dammi la tua spada Magari cambia No 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 Quindi Non potevo farlo Perché io la spada Non l'ho presa Dall'NPC Ma l'ho presa Da un loot a terra L'ho rubata Omega Gemara Boh non lo so Sì era la mia Era la mia Ah allora mi hai trollato Omega Mi hai trollato Mi hai detto che potevo Non lo sapevo sta roba qua Ti giuro su Dio Mi hai trollato Grazie Cree che mi hai Mi hai dato questa roba Ti voglio bene Grazie mille Grazie mille